Per me, scusa. Che mi dacca? Che cazzo è successo? Adesso non ho capito. Boh, non ho capito cosa è successo. Per un attimo ho detto, ah, mi sono disconnesso. Cosa? Boh, vabbè. Allora, praticamente ti spiego. Allora, per quando tu giochi la prima partita, l'unico metodo che hai è vedere con una guida, più facilmente, quali due persone si possono fondere per ottenere scissa. Se tu vuoi levarti subito e dare scatto a questo problema, devi capire come su uno di quei due puoi mettere fray. Quello è l'unico modo. È la maniera più facile all'inizio del gioco. Più avanti, quando ti viene data la possibilità di usare un'altra tecnica, tu puoi invece, con il personaggio già fatto, ovviamente preparati a salvare e caricare un sacco di volte, tu puoi praticamente sacrificare un persona che ha quell'abilità là, ok? In cambio di nulla, per dare esperienza al personale principale, quello che vuoi, che impara quell'abilità là. E a random, lui ti dà la possibilità di trasferire un'abilità. Ecco perché ti salva di carica. Perché non è detto che ti la dia subito. Tu continui così, perché non ti dice, Ah, top, puoi trasferire fray. Ok, passa fray. Quella è la maniera più facile più avanti nel gioco. Se no, devi prepararti a vedere come, chi devi fondere e soprattutto capire fin dall'inizio chi è quello che può ottenere subito l'abilità che vuoi. No, infatti, ho già la certezza abilità che ci servivano. Oh, quello è... Ho visto che hai portato con te un sissa con fray. Molto bene, il tuo compito è fatto. La comandabile è che tu abbia scelto di lavorare così diligentemente verso la tua riabilitazione. Immagino che a me hai la voglia di lavorare. Ovviamente ce l'ho. Non dammi quella attitudine da cattivello. Questo è il tuo dovere, il prigioniero. Detto questo, hai completato l'obiettivo semplicemente in maniera facile. Potresti effettivamente valere il nostro tempo dopo tutto. Resting, dimmi del prossimo obiettivo, quello che hai su quella lista, giusto? Esatto. Ora, ti assegnare il tuo prossimo compito. La ritenzione è che i compiti di questa lista incrementeranno di difficoltà mentre continuiamo. Sei preparato? Ovviamente. Per quale lista? Ah, che ammirabile. Non è che la rientra... La ragazza è accrescendo. Ancora una volta, ci piacerebbe incaricarti di un nuovo privilegio assoluto. Tuttavia è estremamente potente. Ti chiediamo di compiere un altro obiettivo prima di riceverlo. La vita non ti darà solo successi. Allora, ti assegnare il prossimo incarico. Ok, portaci un map door con my army. Con Garry. Ok, cancela la sciscia. Adesso però si potrà ritenerlo, ma in realtà già che ci sono. E sostituirò forse la Gatian. Questa è la sciscia. Questa è la sciscia. Allora, Matador. Eccolo qua. Magaru, check. Non è finito qui. Allora, quindi hai parlato ad un'altra persona che ti aveva chiesto. Questa è Matador con l'abilità Magaru. Ho verificato. Ecco, ho verificato il tuo compito d'assegnato. Ecco, non mi dite. Sei meglio di quanto pensassi, prigioniero. Stavo pensando che ti saresti arreso subito. È proprio come aspettavo dall'umano con cui il nostro maestro ha visto uno del potenziale. Ti sei dedicato? Te posso sconcedere. Solo continua così, d'accordo? Capisco. Questa è una bella attitudine da bere. Questa però sono scorsi poi. Devi mettere il tuo soldo nel tuo denaro dove la tua bocca. Devo dirlo, Justin. È un complimento che non ha ancora gettato la spugna. Perché? Quella mista che ti ha scritto non sta solo tenendo sui suoi piedi, ma sta anche aiutando a migliorare. Ma non sono io quella che l'ha scritta. Mi sono presunto che fossi stata te. Cosa? Io non sapevo nulla riguardo a questa cosa. Soprattutto ora che la consta considerando che questa lista è finita più precisa perché tu l'abbia scritta. Zetta, non hai bisogno di dire cose del genere. Ma aspetta, chi l'ha scritta allora? Sono il nostro maestro. Chi è stato? No, non ho sentito fare menzione di qualche cosa del genere. Da quanto tempo che abbiamo questa lista? C'è una cosa che non va? Ehi, dovrai darmi le compense. C'è una cosa che non va? Sta zitto. Non leggo il tempo di profondità dentro questa storia. Solo sta zitto è il concetto del suo finire e il tuo compito di prigioniero. Carai, forse dovremmo considerarci con il nostro maestro riguardo a questa storia. Il nostro maestro ci ha detto che tutto quello che dobbiamo fare è controllare la riabilitazione. È il nostro dovere seguire gli ordini. Non dobbiamo spiecare il suo tempo in qualcosa di così inutile. Esatto. Non ci interessa chi ci ha portato questa lista. Allora, smettila di dare un'occhiata al prigionario, capito? Certo, noi continueremo a offrirti benefici se continuare a portare a compimento i tuoi obiettivi. Tutto ciò che ti chiediamo è di lavorare duramente nel compito che ti è stato segnato. Noi faremo lo stesso. adesso. Adesso questa qua praticamente al terzo livello ti permette al persona che hai messo in prigionia di imparare una resistenza. Come promesso ti abbiamo garantito una vita che si proverà molto beneficiare nel tuo conto. Ora puoi mettere un'altra persona in lockdown e allenarlo per la nuova vita. mentre tu stai stai sbarazzando in giro la tua persona comincerà a crescere da solo. Parla riguardo e normalmente ti riguarda l'ospitalità. Ad ogni modo a tempo per il tuo prossimo compito secondo la lista è che cosa è c'è Justin? Il prossimo compito è C'è un flower scontato al ruccaggio. Ok. Cos'è una cazzo da vivere che andiamoci matta a darla. Allora flowers notare l'occasio eccolo qua. non è finito la presenza capisco come tipo una chiesta ci ha portato un flowers con la skillet al caso molto bene, il tuo compito è finito il prigioniere è cresciuto continuamente dalla prima volta che l'abbiamo visto vero, l'immagine è che dobbiamo metterlo la tua persona sta iniziando a diventare abbastanza forte fortificare la persona è veramente una vera riabilitazione perché cosa stai dicendo? è solo un pensiero che ho e... se il prigioniere sarà veramente l'abbilitato se noi tendiamo a coltivare il potere che c'è dentro di lui mantieni la calma Justin, questo è il lavoro che il nostro maestro ci ha ordinato di fare o... vorrei provare a tentare di disabilire i suoi ordini questo non è ciò che intendevo non preoccuparti troppo ehm... solo per un misero prigioniero tutto ciò che dobbiamo fare è ottenere il meglio della sua carta selvaggia e farlo lavorare pesantemente ai suoi compiti la carta selvaggia che cosa c'è ora? più... ehm... più considero questa lista e più strana diventa la sua scrittura la sua scrittura deve sapere ehm... che quello che aveva portato a compimento questi obiettivi aveva possesso il potere della carta selvaggia stai scherzando? come... come potrebbe uno sapere di questa cosa? devo dire anche il nostro maestro non sapeva che il tuo signore aveva la carta selvaggia prima che lo incontrassimo siete confuse? vorrei la mia ricompensa siete confuse? stanzito nessuno ti ha chiesto niente hm... ad ogni modo ehm... tutto sarà risolto se ci sbrigiamo e finiamo la tua riabilitazione quindi Justin dà il prossimo compito così si smetterà di parlare molto bene signora che questo ehm... che sia giunto il momento per noi di essere serie come ho messo precedentemente ecco il tuo secondo compito che devi completare prima di cercare le troppe compense ok prova a portarci un Ame Uzume con il trozzo fisico con la schiva fisico non male c'è un... ecco un noto fatto oh... ho visto che è portato con te un Ame Uzume con lo schiva fisico non male non male ecco un noto fatto hm... vuoi sapere non avrei mai pensato che... ehm... forza ehm... è rimane da questa così ehi prigioniero quali sono i tuoi pensieri su questi compiti? sono abbastanza pesanti sono perfetti mi stanno inugnando sono perfetti oh... hai il fegato prigioniero vabbè dobbiamo dare il prossimo vediamo ma che cosa... sento come se... hai già visto la scrittura su questa lista prima? no? parli della... della scrittura a mano? sì d'azio non mi riesco a ricordare lo riconosci Justin? eh... complimentati con lui dopo che ha finito il prossimo compito ehm... non consumarlo però ehm... proprio... fai conto come ti sei... allenata ecco con un sguardo perforante e... e i fianchi angolati aspetta no... quelle... quelle sono le mie note ehm... io... no... io intendo ehm... sembra che tu non vedo l'ora di vedere la... della prossima visita del prigioniero non mi importa sto parlando riguardo alla scrittura a mano e degli compiti smettila di... di rompere la mia catena ora che l'hai menzionato sento come se l'avessi già visto quella scrittura a mano da qualche parte prima posso vedere posso vedere posso avere la mia comprensa zitto posso vedere tieni il tuo naso fuori dagli affari delle altre persone prigionieri ma resta onesto il senso di Deggio V che sento quando leggo questa lista è... mi sta veramente preoccupando chi ha fatto questa lista e perché? cosa intendi? il computer è abbastanza ovvio ed aiutare ad allenare il prigioniero a volte tutto questo qual è l'esatto compito di allenarlo? cioè qual è l'esatto motivo di allenarlo? riabilitazione? ma questo è solo l'ordine del nostro maestro qualcun altro oltre a lui ha scritto questa lista corretto? quindi sogniamo che c'è qualche motivazione che non sappiamo non saprò che ricorda che vi è diventato da ricercare posi scordi se hai ragione nella tua assunzione e la motivazione sarà chiara una volta che avrà finita l'intera lista giusto? sicuro non che hai ragione se dire qualcosa di logico da te è come una ventata fresca d'aria nel grosso caldo dell'estate non hai bisogno di dire queste cose allora lascia che ti compensiamo per aver completato il tuo obiettivo ora ti garantiremo accesso al booster della ghigliattina pensa come una maniera di incrementare il numero di persone con cui puoi fare il bellettino di gruppo inoltre ora puoi fare delle frozen super forti usando 5 o 6 persone vorresti essere in grado di capirlo con qualche sforzo più da niente e dire sei giunto così lontano giusto? ci fidiamo che tu riuscirei a portarlo a complimenti e assaggiamente lascia che ci dai il tuo prossimo obiettivo prego nota che il prossimo che ti provvederemo per te sarà abbastanza potente e quindi ti chiediamo di completare tre obiettivi prima che tu possa riuscirlo d'accordo ecco l'obiettivo numero uno ok possiamo completare un necco shogun con la skill di casa ok 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 Oh, Giustino! A presto! Setsla! Ma dove andiamo a scoprire? Eccoci la mia! 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 Oh sei qui! Oh bene sei qui! Posso sentire l'entità? Eccoci la mia! Eccoci la mia! Hai veramente prendendo la mano in tutta questa cosa della crescita! Cosa c'è che non va Justin? Non è niente di vitale! Tuttavia presiedere sulla crescita di un altro sembra quasi nostalgico in una maniera! Non senti la stessa cosa Carolyn? Cosa intendi? Non avevo mai parlato di... Non avevo mai pensato di qualcuno in questa maniera prima! Eh! Non è torta riguardo a questo! Eppure il nostro compito di aiutare la sua riabilitazione a parte, osservando la sua crescita, sembra quasi familiare! Questo non può essere esatto! La crescita del prigioniero e la sua riabilitazione sono l'esatta stessa cosa! Ehi prigioniero! La crescita che stai mettendo da questi compiti sta aiutando con la tua riabilitazione, giusto? Non so! Probabilmente non chiederemo! Probabilmente! Vedi Justin! Sono la stessa cosa! Non è qualcosa che dovremmo giudicare per noi stessi però! Ad ogni modo Justin! Non dimenticarti il nostro lavoro! Il compito che ci è stato dato è tutto ciò che importa! Non pensare a Duelto! Suppongo che hai ragione! Immagino che tu continuare a preoccuparti riguardo a tutta questa cosa! Finchè il prigioniero non finisce la sua riabilitazione eh Justin? Guarda cosa hai fatto prigioniero! C'hai incastato in il tuo destino! Ah! Eh? Può essere! Cosa c'è? Niente! Ma... Credo che... Sto iniziando a credere che... Eh... Di non vedere... Eh... Aspetta! Eh... Credo che sto iniziando a... Non vedere l'ora di vedere se... Il prigioniero può completare i suoi obiettivi! L'hai sentita? Non... Non... Non deluderci il prigioniero! Ok! Passa è un compito! Destin! Oh sì! Ecco il secondo compito che devi completare prima di cercare la sua compensa! Eh... Ci piacerebbe vedere un Lachesis con la skill Tetrager! Ok... Ok... Allora... Ok... них... Si... Ah, che cosa fa? Ok, sono fatto nel coso. D'accordo, facciamo muoverci verso il prossimo video, prima che le cose diventano tutte conclusionali come l'ultima volta. Mi sono andato una domanda difficile, Justin, solo a dare il suo compito. Ho capito. E' una cosa che non va. Non sei così cooperativa di solito. Non ho alcune intenzioni di bandarare i miei compiti, ma mi piacerebbe sapere la verità di questa situazione. Dopotutto consideriamo una misteriosa lista che sembra averci previsto lo stato corrente degli affari. Chi l'ha scritta? Perché riconosco la scrittura a mano? Perché assolva la sua crescita e ci fa sentire nostalgici? E oltretutto, qual è il vero intento del creatore? Ho detto quindi non fare domande difficili. Ad essere onesta però, sono arrivata a un'ipotesi. Cosa? Sapendo la risposta? Siamo riusciti a incannare il potere del prigioniero via attraverso varie arcane che simbolizzano la natura misteriosa di questo mondo. In verità, l'incontro che abbiamo condiviso con lui è rappresentato dall'arcana della forza. La forza rappresenta un grosso potere, una volontà divina e il risveglio dello sconosciuto. Suona una cosa giusta? Caro, nella nostra interazione il prigioniero ha avuto… È stato l'unico ad aver avuto qualcosa che si è svegliato dentro di lui? Forse, ecco lì che neanche tende alla risposta. Che cosa intendi dire? Ah, ragazzi, perché ne sento così strana? Allora, c'è finito ragazze? Non tengo la mia ricompensa ora? Tuttavia, il prossimo compito sarà l'ottava. Ce ne sono troppe rimasti nella lista. Sei raggiunto così lontano, un prigioniero? Spero che tu ce la farai. Se a fare così la risposta diventerà sicuramente chiara. E tu sei solo… Tu sei più di qualche specie di mollusco random per noi ora. Tu sei l'unico che può trovare la risposta che stiamo cercando. Hai capito, prigioniero? Ok, prossimo. Ci devi portare un'altra persona prima che ti diamo un'altra ricompensa. Qui ci realised, diciamo,ômica. Là che non ci c'è e quindi, pure… Hai capito, l'abbiamo adesso portare un'alella ma? Non, non. . . . . . . . . . non ci sono rimasti molti compiti potremmo essere vicino a trovare l'obiettivo nascosto dietro quella lista grazie a te in realtà sto iniziando a non vedere l'ora di vedere cosa succederà la tua attitudine è cambiata abbastanza considerabilmente carolino veda che ora la tua maschera che stai indossando durante la tua diffusione non è nient'altro che una facciata che cosa? forse nel tuo cuore hai atteso a lungo i pregiorni in cui il pregiorniere sarebbe giottato con le persone specificate questo non è vero e che mi dice di te Justin? sei stata molto parlantina ultimamente sopravvivere hai ragione l'ultimale sentito ridere prima Justin siamo andati a cambiare abbastanza recentemente poi siamo in ipotesi di avere dopo tutto abbiamo pensato che se fossimo riuscito a cominciare questa lista avrei portato alla luce l'intento del nostro creatore del suo creatore abbiamo continuato ad osservare il prigioniero tutti stavamo considerando i cambiamenti che sono iniziati ad apparire dentro di lui tuttavia può essere veramente vero che il prigioniero è l'unico che ha cambiato? il compitamento di questi obiettivi ha anche un grosso impatto sia sulla mia coscienza che sulle mie memorie non è possibile stai provando a dire che la lista non dovrebbe solo cambiare il prigioniero ma anche noi? non ho prove di tutto ciò tuttavia se questa lista rappresenta la volontà del nostro maestro perché è caduto nelle nostre mani e non nelle sue? questo dovrebbe essere qualche specie di scherzo stai dicendo che qualcuno l'ha fatto così che ci possa cambiare? ma perché? tutto ok lì? posso dare la mia recompensa? tutto ok lì? che cosa sta succedendo? riesco a sentire una voce nella mia testa aspetta, io conosco questa voce eh... quindi? qual è il problema? state reagendo in maniera abbastanza abnormale? c'è qualcosa che vi sta dando problemi? eh... non ti scuse maestro il prigioniero si sta dimostrando un uvile soggetto per voi? no, la colpa non risiede in voi se deve disimare qualcuno lascia che siamo noi che ero lì? capisco, molto bene, continuate con la sua riabilitazione il nostro più profondo scuso per quella breve perdita di comportamento non è che sta affidendo un mal cioè è ancora offre e non si possono inserire gli anime non ho idea di cosa sta succedendo con quel sito quindi ora, dato che il compiletto trovi come compiti questo è che ci ricompensiamo con la prossima ricompensa ti garantiremo il premesso di usare la cella speciale di isolamento è come una normale cella da lockdown ma è molto più forte quanto più forte esattamente perchè la persona che metterai la imparerà una forte skill dalla resistenza ci aspettiamo che te lo metta in servizio di un buon uso poi immagino che siamo cambiati, eh? questo è abbastanza chiaro forza l'undicesimo arcana che si divide equalmente tra i maggiori vertidue il risveglio dello sconosciuto e non conosciuto è una donna solitaria che è una solitaria e calma donna che si affronta con la faccia di un che affronta un leone ok caro assegnare che i prigionieri possono compito prima che discussiamo questo problema più in profondità se questa lista dovrebbe cambiarci il cambiamento deve essere sicuramente importante d'accordo d'accordo il prigioniero è tempo del tuo prossimo compito e la prossima compesa sarà incredibile quindi devi fare due compiti prima che tu possa averlo secondo questa lista le possono essere più difficili che ho affrontato fino a questo punto ok, un bug ok ripensando ai nostri conti qui abbiamo perso con... 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 eh... madonna abbiamo perso il nostro comp... eh... il nostro comportamento di fronte a te un paio di volte quindi io e Justin abbiamo avuto una piccola chiacchierata non so come dirlo ma non ci conosciamo tra di noi molto bene anche se siamo così vicini abbiamo anche realizzato che che entrambi di noi sono complementari delle colpe dell'altro mmm non penso che abbiamo mai avuto una conversazione profonda come quella prima d'ora oh mi ha fatto anche ricordare qualcosa di super importante secondo te che tu vuoi sentire che cos'era? un esvelo? un pigianiero? mi piacerebbe pensare a passo mi piacerebbe sentire ha ovviamente lo vuoi la cosa che ho ricordato è qualcuno eh... qualcosa di importante che qualcuno una volta mi ha detto spiegalo tu Justin essenzialmente i 22 arcana rappresentano un viaggio il dio il il vecile si imbarca non prima in un viaggio attraverso i nomi e oltrepassando la morte ed eventualmente ottenendo il mondo lo già guardo in breve questo viaggio è il racconto di della storia di uno attraverso la vita quindi abbiamo capito qualcosa se questa cosa è la carta selvaggia è la potenza dell'idiota prova che tu sei un viaggiatore quindi diventare più forte se ci porterai nella giusta direzione questo potrebbe essere il vero significato della reabilitazione ma forse è qualcosa di oltre quello tuttavia da guardo non si scusi non serve non c'è bisogno di scusarsi per queste cose tuttavia una cosa di cui possiamo essere sicuri è che questa lista è stata scritta con l'intento di essere completata capire e avere fede in quello dentro è il cambiamento che questa lista ci ha portato non che qualcuno commette a servire di comprenderlo ma per noi è qualcosa di veramente importante adesso da imparare e penso che potremmo sapere chi dichiara quella voce nella mia testa non posso dirtelo ora però perchè no per non andare bene perchè no prima di tutto non abbiamo alcuna prova per dirlo effettivamente secondo cosa se fosse veramente vero qualunque cosa che sappiamo sarebbe salutata alle ortiche tuttavia siamo cresci siamo cresciuti in maniera di riflettere noi stessi grazie a te questo potrebbe questo potrebbe non essere qualcosa che dovevi dire a te ma mi sono divertita con il tempo che abbiamo speso insieme hai sentito prigioniero è meglio che tu è meglio che tu superi questa cosa della robina continua a sopravvivere tutta la robina e tutta la storia perché non ripareremo la verità insieme per il momento per il momento all'interno di fare qualunque cosa il nostro potere per assisterti per il bene del tuo futuro ed è nostro quindi è proprio qua aspettatevi che noi cominceremo a giocare carino con te solo perché crediamo in te siamo ancora più siamo molto più severi come eravamo prima allora è tempo di assegnarti il compito finale prima che tu riceverai la tua commessa immensamente potente prima prima il compito portaci un set con il canto ok non è proprio tutto in realizzate che èonasera non tanto è tanto è molto tanto tanto ma quanto tanto tanto per la passata da questa è anche un perfecchi nuovo con attacco bello per produrre a popolo con signale ma è quello qui questo è il personale che stavamo cercando Ce l'hai veramente fatta? Il prigioniere con tutti questi schifosi con questi pessimi personaggi è riuscita effettivamente a farcela? Immagino che devo complimentarti con te, guarda, questa volta. Ma poi, già mi intervassi. Va bene. Ben fatto. Sei riuscito a superare le nostre aspettative originali? Questa potrebbe non essere una cosa proprio adatta da dire a un prigioniero. Ma hai fatto un lavoro straordinario. Sei veramente adottato. Ma ti devo dare un po' di credito. Il nostro compito che ti assegneranno a te non c'è niente. Hai fatto qualunque obiettivo o qualunque compito fosse disponibile a te. e il compito che siamo quelli che governano sul potere il nostro ruolo è Morare sul potere. Perché l'ho detto questo? Una voce sta archeggiando sulla mia testa. Justine? Tutto ok? Governare sul potere? Non è niente. Solo la mia testa. queste memorie. Quelle di quello che ha scritto questa lista era a me o eravamo noi? Cioè cosa siamo noi? o eravamo noi? hai ricordato qualcosa? Ricordato qualcosa? Le mie scuse. Non preoccuparti. Questa è accaduta anche a me. Pingiannero, questa è tutta colpa tua per me avete molto curioso quella cavolo di bocca. Caroline non cercare di cambiare la colpa su lui di di manare la colpa su lui spera che tu spera che tu sappia che sei molto utile pingiannero ma d'accordo ti garanterò quel privilegio eh siamo veramente diventati soffici eh forse forse sei troppo imbarazzata da mettere come lo so come il fatto che si preoccupa per noi ti piaccia no eh Caroline sei imbarazzata ad ogni modo ti daremo una grossa abilità questa volta eh ti agirai lacrime di gioia quando lo otterrai eh mh prigiannero non c'è dubbio che sto sei un bambino problematico ma onestamente siamo stati veramente impressionati che tu sei riuscita a acquistare tutte le prove che ti avevamo messo davanti mantieni un grosso potenziale un grosso potenziale sorprendente quindi combatti sono sicuro che tu salga di completare qualunque cosa l'intenzione di affrontare e farai meglio a mettere fino alla rovina ok lasciatela da me ripeto supportato fatemi supporto lasciatela da me un ingannatore credo in te non c'è che tu puoi raggiungere la verità intendiamo per te berserk io sono te e tu sei ma e te è trasformato un vuoto in un legame di sangue questo legame diventerà le ali della ribellione e romperà le catene del tuo cuore dato che tu hai svegliato l'ultimo segreto della forza che ti garantirà il potere infinito hai intenzione non perdere concentrazione sei ancora l'abilitazione perché non uscirai da dietro quelle sbarre capito prigioniero ma alla fine chi ha scritto la lista lo vedi alla fine del gioco per quanto è il prezzo set purtroppo sei troppo più per il momento di livello allora ho detto che mi serve hero lover se c'è io togliamo ah hero ho detto no lover se c'è io togliamo perché io ci sto aspettare prima di poter andare avanti questo giro hanged death moon hanged ok death ok e moon ok e sun per cosa per il politico che o' 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 Grazie a tutti. Ho portato già 10 di gemelle e hai potuto goderti tutta la loro mini trama su di loro, ecco. Grazie a tutti. Ho portato un attivo, esatto. Facciamo quello che faremo per un bel po' di tempo durante i tempi morti. Una palestra è ammirabile che tu voglia allenarti, ma andare così lontano da pagare soldi per farlo? Perché non ti alleni la tua stanza? È molto più economico. Ragazzo, ma non mi fai fare, porca troia, ancora? Vabbè. Best waifus. Ah, facciamo ancora. Poi ammoci un po' di tempo al nulla. Facciamo la sfida. Sì. Ho preso la sfida del Big Bang Burger. È la tua prima volta, sì, all'iniziale del terzo rango. Il quinto obiettivo sarà il Comet Burger. È molto più grosso di quello che mi aspettassi. Questo burger è un blumo, non lo so, come una cometa che è schienata nel cielo. Ma dovresti riuscire a conquistare questa sfida, se dovresti riuscire a conquistare questa sfida, sarei riconquistato con un premio stravagante. Oh, un premio sarebbe fantastico, buona fortuna. Beh, è per il tempo di iniziare la sfida dei 30 minuti della Big Bang Challenge. Pronti? Via. Questa è una volta la pesante. Non è andata con la faccia, solo l'ora è la tua velocità e ce la farai. In bracamani ho mangiato tutta l'interno, ho fatto un'intera cosa. Ce l'hai qua? Salve l'uclusione intestinale. Comunque, già avrei completato questa sfida. Guarda che sei riuscito a estinguere la Comet Burger. Ti presento il peggio del secondo grado. La nuova sfida si attenderà ora che sei entrato di secondo grado. Non vedo l'ora di altro, vi ha il tuo tentativo all'altro a nostra sfida. Mi ha buttato giù quella Comet Burger. Se è stata così mirabile, è stato un interso livello di coraggio. Non vedo l'ora di più. Ok, io direi che per oggi chiediamo qua va. Boh, facciamo così la scena. Ok, dobbiamo andare un attimo a parlare con l'uscita, poi faremo un paio di grimandelli e dopo di che potremo andare a fare il boss, il palace. Ragazzi, io vi saluto a tutti quanti e noi tutti ovviamente ci vediamo la prossima volta. Facciamo mercoledì. Se non avrò problemi, dipenderà un attimo a che mi trovo con il mio lavoro da come ci arrivo a casa. Non penso che dovrei essere stacco, quindi dovrebbero esserci cambiamenti. e sabato prossimo, pomeriggio, abbiamo da iniziare ma sei per due. Yes. Ovviamente andiamo nella parte bella. Buon saluto, buon saluto, buon pollas e noi tutti venite ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao!